Scatta la denuncia per il 50enne MDB, domiciliato in un centro pelinio, considerato responsabile della brutale aggressione perpetrata nei confronti di un ventenne di Pacentro. Gli accertamenti investigativi svolti dalla Polizia hanno fatto scattare l'inchiesta come atto dovuto per lesioni personali aggravate. Stando alla ricostruzione dell'episodio, si è appreso che il giovanissimo si era recato in un ristorante in località Badia per consegnare la merce, mentre lasciava il luogo a bordo della propria auto sarebbe stato rincorso a voce alta dall'uomo. Temendo che fosse successo qualcosa, il ventenne avrebbe rallentato, il tempo di girarsi verso il pedone che si stava intrattenendo con un gruppo di persone che gli sarebbero sopraggiunti una serie di pugni, almeno quattro per la precisione, senza alcun motivo logico. Il giovane ha rimediato la rottura del setto nasale con una prognosi di 30 giorni come refertato alla locale pronto soccorso, il tutto davanti a una giovanissima che si trovava a bordo dell'auto con il ventenne e a un agente libero da servizio che è intervenuto nell'immediatezza per fermare l'aggressore identificato in seguito dagli operatori del commissariato PS di Sulmona all'esilo degli accertamenti. La prognosi superiore ai 20 giorni comporta la procedibilità d'ufficio senza necessità di querela da parte della vittima. Per questo la polizia consegnerà l'informativa sul tavolo della procura, deferendo il cinquantenne per lesioni personali aggravate. Tra i due è stato accertato non esiste alcun legame o attrito da rendere possibile una reazione così violenta dell'uomo che appariva in stato di alterazione. Un'aggressione senza un perché che ha generato stupore e preoccupazione sul piano sociale, tuttavia il responsabile è stato individuato e assicurato alla giustizia.